E ci voleva proprio dopo queste chiusure che sono durate tutto questo tempo. Io sono Renato Loria, sono del Motoclub Rossano Stefano Acri Maurizio Greco e noi ci occupiamo anche di educazione stradale e corsi di guida sicura avanzata e lo organizzeremo proprio a settembre nella città di Corigliano Rossano per tutti coloro iscritti alla FMI che vogliono acquisire tecniche per andare in moto in modo sicuro.